Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze o meglio dovremmo dire pagliace il pagliacce Poi me gozzo e ben ritrovati su questo nuovissimo video Attenzione di GTA non 5 ma bensì il 6 Attenzione momento di serietà Perché ragazzi questo è un video diverso rispetto agli altri Allora questo video ragazzi sarebbe dovuto essere in collaborazione con un altro youtuber Con un mio grande amico che è di Bari vicino Bari Che si chiama Nick Radonio sicuramente lo conoscete tutti Però poi ci sono stati un po' dei problemi e quindi ho deciso di farlo da solo Quindi oggi vedremo le reaction di bambini che credono di avere GTA 6 Vedremo dei video su YouTube e vedremo la mia reazione alle loro reazioni ai loro GTA 6 Che ovviamente sono palesemente falsi Per cui pronti a ridere ragazzi direi che possiamo iniziare Perché fidatevi che sono tanti e penso che valga la fine di guardare questo video Vi ricordo che alla fine del video ragazzi guardatelo tutto Perché a fine video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram In modo tale che io possa salutarvi in tutti i prossimi video Quindi trovate il mio Instagram qui Realentoni Venitemi a cercare Mi raccomando non fate i monelli Se no vi mando Ronaldo Junior a casa Mi raccomando eh Ovviamente per concomitanze ragazzi Anche io c'ho la mia copia di GTA 6 Qui prontano per schiaffarla in faccia a tutti In realtà ce ne ho due Ce ne ho una così Che è per la Playstation 4 Con la custodia Playstation 3 Più fake di questa Era meglio quando quella c'avevo con la Playstation 4 Ma me l'hanno fottuto i mates Però poi vedremo ragazzi Mo partiamo col video E poi intanto questo lo teniamo qui Vicino a noi Bene ragazzi ci siamo Comitati su Youtube Potete trovare molti video di GTA 6 Nel fatto che siano falsi o meno Cioè sì che sono falsi Quindi iniziamo a dire già con questo video Di questo bambino che scrive I got GTA GTA 6 Io ho avuto GTA 6 presso Prima una degli altri Il messaggio è quello Quindi io direi di partire col video Vediamo un po' cosa fa Giusto per capire se c'ha veramente GTA 6 Già il fatto che c'ha 3.287 dislike La dice tutta Attenzione perché adesso Ma che sta facendo Tutta a posto Oh mio dio Ma quello è il GTA 6 più bello che abbiano fatto ragazzi Soprattutto foto montato al punto giusto E adesso Ma che cazzo Ma tutto a posto Non è che devo chiamare la cazzo Di ambulanza Se vuoi chiamo il C'è il cazzo di cazzo Ma che cazzo sta succedendo in questo video Porca miseria Comunque sembrava una fottuta scimmia Quel bambino lì ragazzi Ragazzi Continuando abbiamo un altro video Che si chiama Con lo stesso identico titolo I got GTA 6 Quindi vi faccio capire già Che ha GTA 6 e dura un secondo Che cazzo No no Questo lo voglio rivedere Scusate Fatemelo rivedere Cioè Ma che è Sta pigliando infarto Ha fatto Che cazzo Vabbè Diciamo che ragazzi GTA 6 ancora Non l'abbiamo visto Però Attenzione Getting GTA 6 early Quindi stesso titolo Faccio capire Quello che sta dicendo Ok ragazzi Allora Sta salutando E sta dicendo Di avere GTA 6 In poche parole Perché è in inglese Cerco di tradurre Ma è impossibile È la miglior copia Di GTA 6 Che fosse stata mai fatta Addirittura Con sei mezzo strabico Vabbè Però voglio vedere Che c'è dentro Cioè Fatemi capire Lui ha preso Un disco Ha messo Il GTA 6 L'ha preso Ha levato Quello che c'era dentro E ha messo Un disco normale E ci ha scritto Sopra Con un fogliettino Di carta GTA 6 La mia copia Ufficiale Di GTA 6 Devo dire Bellissima Più bella Del video suo Perché io L'ho scritto Con la penna in blu In stampatello Credo L'ha scritto In stampatello Madonna Ma perciò Ho fatto sti cosi Di Ebo Vedete Che ci fa Con questo disco Non ci credo Non sta per mettere Non sta per mettere Sta per nascere Un bambino Nel mondo Sta per nascere Un bambino Nel mondo E' nato Un bambino Nel mondo Dopo questo E' nato Un fottuto Bambino Nel mondo Ditemi poi Come lo chiamate Mi raccomando Ci tengo a saperlo E' partito Il disco Sta partendo A DVD Stiamo per vedere GTA 6 In anteprima mondiale Da un canale Da un canale Di un ragazzino Di 66 iscritti Però c'è 106 dislike Forse gente Rosicora Sicuramente Perché io l'ho visto Ragazzi Ho visto prima Che c'è scritto GTA 6 Grande Foto 6 Quindi Lei che è vero Ma che cazzo Angry Birds Pezzo di merda Mi è venuto a saltare A tirarmi un po' Tu hai fatto questo casino Per farmi vedere Il gioco di Angry Birds Mi sono tirato Un pavagnone Di quelli assurdi Capito Quello sarebbe Grand Theft Auto Si ha detto Ciao ragazzi Non crederete mai A quello che vi farò vedere oggi Ma scusa eh Meglio questo no? E' meglio questo Ma io dico Metteteci un po' di inventiva Pure mio frate Pure mia cugina Mio fratello Che sono ritardati Ci hanno Senza offesa 7 anni Sanno disegnare meglio Cioè quella che cos'è? Sarebbe una pistola Sembra Cioè quella è una pistola Veramente Guardate Cioè In questo screen Si vede Grand Theft Auto Scritto con i piedi Si vedono degli omini Questi omini ragazzi Li disegnavo io all'asilo Quando avevo tre Maledetti anni Si può fare una copia falsa Di GTA 6 E mettere Minecraft dentro Io devo chiamare Veramente il fotutissimo E basta Che palle Ma che cazzo sta succedendo In sto video È la seconda volta Vedo un disco di GTA 5 Ma lui dice che sia Dell'Xbox 2 Dell'Xbox 2 E poi GTA 6 Dice lui Quanto pare Sta tentato di metterlo Nella sua Xbox 2 Che è un Xbox 360 Tanto devo dire Vabbè E ora scom Magari Ti esplode In mille pezzi Ragazzi Continuando C'è un video Che ha destato La mia attenzione Che si chiama I got to play A new version of GTA 6 And it looks amazing Cioè Io ho giocato A una versione GTA 6 In anteprima E sembra essere fantastico Attezzate Che questo video C'ha 289 Mi piace Quindi Forse è il momento giusto Quindi io Comunque metto play Ma che cazzo Oddio mio Mi ha devastato Le orecchie No ragazzi La mi piace A questo video Solo perché Bellissimo Mi ha spaccato Le pottute orecchie GTA 6 GTA 6 Vediamolo Voglio vedere Su GTA 6 Non ci credo Non ci credo Un fogliettino Attaccato sopra Il posto del 5 e il 6 GTA 6 GTA 6 Oh my gosh Ok now Let's check out the disc E adesso Sei rimasto deluso Eh zi Che c'è mo Ok Ma la è in coda Call Rockstar Attenzione ragazzi Lui chiamerà la Rockstar Perché Oh my gosh I'm got GTA 6 Early You won't believe this Not clickbait Killing Roadstar Lloyd Nerd E ci credo And hopefully I will get GTA 6 Early Early My only Go get Put on your Kid But I will In question Moodle My Nanga I'm getting It Only Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Io spero che questo video diverso rispetto al solito vi sia veramente piaciuto Perché è stato qualcosa di assurdo In quanto ci siamo divertiti tutti quanti a vedere questi bambini che credevano di avere il GTA 6 Quindi ci tengo a sapere anche la vostra Che se il video vi è piaciuto un bel pollicione Iscrivetevi al canale, commentate qual è stato secondo voi il video più divertente E come promesso in tutti i video ragazzi saluto le ultime 5 notifiche di Instagram Per cui saluto GaetanoCR7, Filippo Di Monda, Greta Morellina, Antomaz123 e Matsu08 Questi sono i 5 di oggi Quindi se anche volete avere la possibilità mi raccomando Trovate il mio Instagram qui, cerchiate chiocciola rialentoni E seguitemi in tanti ragazzi, mi raccomando non fate come quei bambini Quindi seguitemi in tanti così avrete la possibilità di essere salutati in tutti i prossimi video Per questo video è tutto ragazzi In descrizione trovate le maglie ufficiali in edizione limitatissima Non dimenticate di iscrivervi al canale per nuovi video perché ne arriveranno veramente tanti Come Goz ragazzi E come fanno, e avrei lo promesso Ci sentiamo ad un prossimo video Ciao